Nessuno nega la crisi, tutti dobbiamo lavorare per superarla. State ascoltando un imprenditore che ha tre aziende in borsa. Lei porta cose al Monte dei Pegni, però lei non si ritiene una povera, un ambiente? No, ero la classe media, adesso sono medio bassa. Proprio due anni fa ho perso il lavoro, la società per il quale lavoravo ha truffato l'Ada, che ho 52 persone a spasso. Che cosa hai portato? Catenine, cose dei battesimi, stupidaggini. Insomma, non so stupidaggini, ne so ricordi. Tu voti? No, basta. Non ci credi proprio più? Perché noi stiamo parlando del nulla, noi stiamo parlando. A P2, a P3, a P4, stiamo parlando del nulla. Ciascuno deve fare la propria parte. That's the press, baby. The press.